Non ce l'ha fatta la signora di 88 anni che il 18 maggio scorso fu travolta da un'auto in corsa a lungo via Garibaldi a Campobasso all'altezza della stazione ferroviaria. Per quel grave incidente fu fermata un'infermiera di 43 anni. Si sono celebrati ieri i funerali di Annalisa Salvati e Angelo Iorio morti nel violento scontro sulla Stata Le 17. Tantissime le persone che si sono strette attorno ai cinque figli rimasti orfani. Proseguono intanto le indagini. Il vice sindaco di Boiano chiede più sicurezza lungo l'arteria. Strisce Blu a Disernia continuano le polemiche. L'assessore Chiacchieri rassicura soccorso Garibaldi sarà a pagamento un solo lato, ma il PD in una nota chiede al sindaco di dimettersi. L'incidente ferroviario questa mattina a Zagarolo sulla linea Roma-Cassino. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario destinato in partenza dal Molise pendolari costretti ad ore di attesa nonostante il servizio sostitutivo. Sandro Ruotolo e Michele Albanese, giornalisti che vivono sotto scorta per i loro articoli contro Camorra e Andrangheta. Ieri sono stati gli ospiti d'onore di un convegno organizzato da Asso Stampa Molise. Da parte loro una lezione di civiltà e correttezza destinata alla classe politica e nonno. Un cordiale saluto a tutti. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale in apertura. Lo avete sentito nei titoli. Il decesso della signora di 88 anni che ricorderete bene perché le immagini furono poi divulgate. Rimase gravemente ferita in questo violento incidente. Accaduto in pieno centro a Campobasso, lungo via Garibaldi. Vediamo l'auto che si ferma dopo l'impatto con l'anziana signora di 88 anni. A guida c'è un'infermiera di 43 anni, scende e non presta soccorso, quindi tira dritto. Sono stati dieci mesi di agonia per questa signora di 88 anni che ha trascorso queste settimane tra il reparto di chirurgia e la fisioterapia. Doveva essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, però nelle ultime ore il suo cuore ha cessato di battere. Per questo incidente, dicevamo, questa infermiera di 43 anni fu anche arrestata subito dopo grazie proprio a queste immagini sequestrate dalla polizia che procedette all'arresto in quasi flagranza. Ma il GIP Enrico Di Dedda qualche giorno dopo annullò l'arresto. Ora però i capi di imputazione che erano di lesioni gravissime, omissioni di soccorso e guida in stato di ebrezza ovviamente potrebbero cambiare. E purtroppo continuiamo ad occuparci di incidenti. Lo facciamo con i funerali che si sono svolti ieri a Boiano nella storica cattedrale. Sono i funerali dei due coniugi rimasti uccisi lungo la statale 17. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Angelo Iorio e Annalisa Salvati. Alle eseque, celebrate nella cattedrale di Boiano da Don Giovanni di Vito e Don Giovanni Buontempo, ha partecipato un'intera comunità commossa e addolorata. Tutti hanno voluto salutare Angelo e Annalisa, ma soprattutto hanno voluto stringere e sostenere i cinque figli della coppia, chiamati a far fronte ad un dolore troppo grande. È una comunità affranta, io non ho parole in queste occasioni, si vorrebbe solo scomparire rispetto a un evento che ha lasciato impietriti senza parole, come dicevo, l'intera collettività, l'intera comunità di Boiano. Ovviamente il pensiero va a quei bambini che di colpo si ritrovano senza papà e mamma e al quale rivolgo tutto l'affetto dell'amministrazione e della collettività tutta. È difficile esprimere parole per il dolore che abbiamo dentro di noi e nel nostro cuore, ha detto Don Giovanni di Vito nel corso dell'Omelia. E ha ricordato la libertà di cui l'uomo è dotato. Tutti abbiamo la libertà di poterci muovere come vogliamo, tutti abbiamo la libertà di poter rispettare o non rispettare il codice della strada, tutti abbiamo la libertà di poter fare quello che vogliamo, ma tutti abbiamo anche il diritto di giungere alla meta desiderata. La libertà è un dono prezioso, ha aggiunto Don Giovanni, che si comprende soltanto quando si vive dal punto di vista civile e nel rispetto delle regole. E regole e attenzione, chiede anche il vice sindaco di Boiano in merito alle condizioni della statale 17, dove è avvenuto il terribile schianto. Ovviamente va ricordato la pericolosità di questa assestradale, statale 17 che è costellata di vittime e che probabilmente il Molise avrebbe bisogno di una dorsale che rendesse tutto più sicuro, almeno l'attraversamento della nostra piccola regione. Spero, credetemi, spero vivamente che questi eventi non possano mai più avvenire, che non possa mai più accadere una disgrazia del genere, che ci lascia tutti senza parole. Intanto continuano le indagini da parte dei carabinieri di Boiano per ricostruire la dinamica del sinistro, anche se dalle immagini della telecamera di videosorveglianza dell'Agip tutto sembra molto chiaro. Non è escluso che l'autorità giudiziaria, nelle prossime ore, formalizzi l'iscrizione nel registro degli indagati a carico del cinquantenni alla guida della Mercedes con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Torniamo adesso ad occuparci delle strisce blu a Disernia, perché l'assessore alla viabilità che ha a chiare dice soccorso Garibaldi e corso risorgimento sarà a pagamento un solo lato della carreggiata. Nell'accordo con la ditta, prevista anche la sistemazione del terminal dei Varchi ZTL nel centro storico, ha spiegato l'assessore in questa intervista. L'amministrazione comunale di Disernia si accorta che esistevano forti discrasie tra l'approvazione del bando relativo alle soste a pagamento e la realizzazione delle strisce blu in città. Sostanzialmente la ditta che si è giudicata all'appalto ha realizzato più stalli di quelli che erano stati autorizzati dal Consiglio Comunale. Necessaria dunque una pausa di riflessione per effettuare una verifica puntuale sull'espletamento dei lavori prima di ricominciare. L'assessore alla viabilità, Domenico Chiacchiari, ha voluto tranquillizzare i cittadini di quelle strade lungo le quali le strisce blu erano state realizzate su entrambi i lati. Adesso c'è questa pausa di riflessione perché c'è stata una discrasia tra il numero dei parcheggi approvati in Consiglio Comunale e quelli messi a gara. Voglio tranquillizzare anche con i cittadini sul corso di sorgimento e su Via 24 Maggio non ci saranno nessun doppio senso di parcheggi a pagamento. Saranno sicuramente su un lato. La sosta costerà 80 centesimi in tutta la città senza distinzioni territoriali. Per i residenti sono previsti abbonamenti con una forte scontistica rispetto alla tariffa ordinaria. La ditta che ha vinto l'appalto ha spiegato ancora chiacchiari si è impegnata ad effettuare alcuni lavori nell'area del terminal, nel centro storico e sulle pensiline del bike sharing che diversamente il comune non avrebbe potuto affrontare per mancanza di fondi. Stiamo portando avanti un lavoro importante per la città di Sernia perché oltre ai parcheggi i congettadini potranno usufruire di tantissime opere aggiuntive che provengono proprio da questo progetto da chi ha offerto e da chi ha sia giudicato il servizio. Ad esempio sarà risistemato il parcheggio dell'auditorium il secondo parcheggio dell'auditorium sarà sistemato tutto il termine della stazione l'edificio della stazione sarà rimesso a nuovo con la realizzazione di una sala di attesa e una biglietteria e in più sarà sistemata tutta l'area esterna dello stesso e oltre a questo sarà risistemata la zona ZTL sul centro storico di Sernia con un investimento di circa 100 mila euro sarà riattivato e risistemate le benzidine del bike sharing insomma tutte opere che andranno a beneficio della città. E la vicenda dei parcheggi a pagamento nella città di Sernia rappresenta secondo il PD l'emblema del fallimento dell'amministrazione di centrodestra guidata da Pollonio. Il sindaco scrive il circolo cittadino del Partito Democratico in una nota ha dimostrato questa volta più che mai tutta la propria inadeguatezza rispetto al ruolo che riveste sulle strisce blu infatti il suo è un evidente fallimento sia dal punto di vista amministrativo ma soprattutto dal punto di vista politico la situazione complessiva al comune di Sernia è diventata intollerabile sul piano politico e amministrativo il primo cittadino ne prenda atto conclude la nota del PD ormai le scuse non bastano con un gesto che lo farebbe uscire di scena con dignità rassegni le dimissioni immediatamente per il bene della città Incidente ferroviario questa mattina a Zagarolo sulla linea Roma-Cassino bus sostitutivi anche per i pendolari molisani ma non sono mancati i soliti disagi diversi disagi registrati questa mattina dai pendolari molisani che avevano scelto di utilizzare il treno per raggiungere Roma i problemi sono stati causati dal deragliamento di un treno merci in zona Zagarolo proprio sulla linea Roma-Cassino l'incidente è avvenuto alle 4.25 la circolazione ferroviaria è stata sospesa ma la rete ferroviaria italiana ha inviato subito sul posto le squadre di tecnici che hanno lavorato per risolvere il problema ma tanta è stata la rabbia per i disagi con cui i pendolari hanno dovuto fare i conti sono rimasti fermi diverso tempo infatti a Cassino in attesa degli autobus sostitutivi che non sono stati sufficienti soltanto una volta arrivati alla stazione di Isernia ci hanno riferito del problema hanno spiegato alcuni viaggiatori e ci hanno più volte assicurato che a Cassino avremmo trovato degli autobus sostitutivi ma in realtà i mezzi a disposizione non erano sufficienti e per questo c'è chi ha perso coincidenze ed è arrivato a destinazione con diverse ore di ritardo la tratta Campobasso-Roma è davvero la peggiore d'Italia e quanto accaduto oggi ne è l'ennesima conferma problemi inoltre si sono registrati anche per chi da Roma questa mattina ha cercato di raggiungere le stazioni di Benafro Isernia e Campobasso per fortuna non ci sono stati danni a persone si indaga invece sulle cause che hanno provocato l'incidente il centrodestra a Termoli incalza nuovamente sulla delicata questione del depuratore con una mozione presentata in conferenza stampa si chiede al sindaco di conoscere in che modo e quali siano i tempi di riparazione della condotta sottomarina che 20 giorni fa si è rotta per l'ennesima volta causando chiazze marroni in mare ed un odore nauseabotto Nel pieno delle trattative per l'individuazione del candidato sindaco di coalizione il centrodestra si riunisce a Termoli per evidenziare ancora una volta le problematiche del depuratore lo fa con una mozione nella quale viene chiesta al sindaco quali siano le procedure attivate per sistemare la condotta sottomarina danneggiata e i tempi di riparazione anche in virtù del fatto che sussistono problematiche al nuovo impianto del Sinarca che non è ancora entrato in funzione Purtroppo siamo all'ennesimo episodio di malfunzionamento del depuratore del porto e di mal governo e amministrazione sbrocca perché problema, li ho sempre detto fin dall'inizio del mandato di questa amministrazione che c'era un'emergenza che era quella della depurazione Erano stati creati i presupposti per risolvere tutto entro il giugno 2015 ma anche già dal giugno 2014 con la consegna del depuratore del Sinarca si sarebbe alleggerito il depuratore del porto con l'impianto di sollevamento di rio vivo si sarebbe risolto completamente il problema e si poteva delocalizzare il depuratore del porto un'amministrazione che evidentemente non solo non fa nulla ma crea danni e in questo caso crea danni all'ambiente crea danni al turismo, crea danni all'economia di questa città conferma la tendenza a creare disastri questo è un disastro ambientale turistico già annunciato con la mancata consegna della bandiera blu al comune di Termoli La mozione è firmata dai consiglieri Antonio Di Brino, Annibale Ciarniello, Michele Marone, Francesco Roberti e Francesco Rinaldi ai quali si unità anche Fratelli d'Italia poche ore prima della conferenza stampa il comune di Termoli tramite l'ingegner Bove ha inviato una missiva alla crea per chiedere interventi urgenti entro il prossimo 30 aprile ma da quanto scaturito la crea sarebbe già pronta da tempo ad intervenire dopo aver effettuato un sopralluogo con alcuni sommozzatori che hanno realizzato anche un filmino per evidenziare dove e come intervenire ma i tempi si preannunciano ugualmente biblici è chiaro che vedersi arrivare stamattina una nota del genere da un lato diciamo finalmente e dall'altro diciamo anche ma è possibile che ogni anno in prossimità della stagione balneale ci ritroviamo a dover gestire una situazione di emergenza ma che siamo matti ma per cinque anni si è sempre ripetuta la stessa situazione ma questa amministrazione invece di pensare al tunnel e a opere faroniche perché non ha pensato alla prima emergenza di Termoli che si riflette negativamente sul turismo e sulla balneazione e cioè alla manutenzione del depuratore e alla manutenzione del deodorizzatore quindi noi auspichiamo che innanzitutto l'intervento di riparazione venga effettuato il più presto possibile come peraltro ci ha annunciato anche un ingegnere della CEA che sta provvedendo ad ottenere tutte le autorizzazioni anche da parte della Capitaneria di Porto per eseguire l'intervento sulla condotta sottomarina Il coraggio di informare l'importanza del ruolo del giornalista soprattutto ai tempi della disinformazione causata dai social tutto raccontato da Sandro Ruotolo, Michele Albanese ieri in un incontro organizzato dall'Associazione Stampa del Molise i due giornalisti vivono sotto scorta dopo aver lavorato ad inchieste sulla Camorra e sull'Andrangheta i giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata le querele temerarie la cancellazione degli aiuti al pluralismo informativo la stampa italiana e molisana sotto attacco dalla mafia, dalla cattiva politica e dal malaffare se ne è parlato ieri nell'incontro pubblico chi ha paura dell'informazione organizzato dalla sostampa nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso due autorevoli ospiti all'evento Sandro Ruotolo e Michele Albanese giornalisti italiani sotto scorta per le loro inchieste sugli affari e le collusioni della Camorra e Andrangheta le mafie continuano a puntare su tutto ciò che gli consente di fare guadagni illeciti cambiano le stagioni ma stai tranquillo che dove ci sono affari sporchi ci sono loro e utilizzano la qualunque pur di arrivare a questo risultato quindi droga, gioco d'azzardo riciclaggio in attività lecide ma la cosa che mi preme dire che mi porta a lanciare un segnale d'allarme anche qui è quella di stare attenti all'inquinamento dell'economia reale guardate c'è un dato che fa tremare le vene ai polsi secondo il Comando Gionale della Guardia di Finanza il valore dell'economia illegale prodotta dall'attività delle mafie arriva a cifre enormi quasi 8-9 finanziari all'anno stiamo parlando di quasi 150 miliardi di euro una montagna di soldi con la quale stanno comprando tutto stanno comprando il respiro la vita delle persone mettono a rischio la democrazia di questo paese due nomi che già soltanto rispondendo a semplici interviste hanno regalato una lezione di civiltà spiegando un ruolo, quello del giornalista che qui in Molise, ma non solo viene continuamente declassato e bistrattato 45 anni fa quando andavi su un fatto di cronaca il tuo principale obiettivo era quello di avere il gettone in tasca perché dovevi chiamare la redazione e dettare il pezzo oggi con il telefonino va in diretta quindi è cambiato moltissimo però non è cambiata una cosa che serve il giornalista Hitler parlava direttamente con le folle Mussolini idem ma quella non era democrazia e il rischio c'è ed è molto forte quello del bypassare la nostra carta costituzionale istituzionale che prevede proprio l'articolo 21 della nostra costituzione il ruolo del giornalista se tu fai il populismo questo vuol dire andare contro la costituzione e quindi oggi c'è per questo io dico ai cittadini che si devono ribellare per essere informati abbiamo bisogno di più giornalismo per vivere meglio per risolvere i nostri problemi quelli piccoli e Sandro Ruotolo mantenendo inalterato il suo ruolo integerrimo di giornalista fin anche in un'occasione in cui piuttosto che intervistare è intervistato sforna un'altra lezione di chi quando affronta un territorio qualunque sia il motivo vuole conoscerlo e indagarlo per avere un buon amministratore tu hai bisogno di un giornalismo indipendente, autonomo che se trova la magagna qui in Molise avete due inchieste sul voto di scambio ma lo sapete che in un paesino vicino a Venezia è stato eletto un sindaco con 81 voti del clan della Camorra dei Casalesi e che primo cittadino è? Siamo sicuri che garantisce i diritti a tutta la comunità di Eraclea o voi qui di Campobasso o di quello che è? Quindi perciò è importante il giornalismo autonomo e indipendente I due giornalisti intervistati da Monica Vignale e Giovanni Di Tota hanno raccontato insomma una realtà a molti sconosciuta rivendicando l'importanza del ruolo dei giornalisti nella divulgazione dei fatti che possono in qualche modo determinare la crescita di un paese e il presidente di Assostampa Giuseppe Di Pietro ha sviscerato però problematiche che vanno fin anche al di là delle classiche minacce Il problema dell'informazione non è più solo legato alle minacce della criminalità stiamo assistendo a delle altre minacce altrettanto perniciose e anche molto virulente perché non è soltanto con la pistola che si minacciano i giornalisti ma si minacciano anche con le querele temerarie cioè con le querele con una denuncia che si fa al magistrato per chiedere risarcimento poi ci sono anche giudici onorari che accordano dei sequestri preventivi sui conti correnti dei giornalisti e quindi si mette in discussione la libertà di espressione si mette in discussione l'informazione ai cittadini e poi c'è un altro capitolo legato al finanziamento dell'informazione in Italia se pensiamo che la Francia dà 240 milioni di euro solo alla France Press in Italia le agenzie di stampa dalla presenza del Consiglio hanno convenzioni per poche decine di milioni e quindi c'è tutto un sistema perché? Perché l'informazione è un bene è un diritto costituzionalmente garantito e chi governa deve rimuovere tutti gli ostacoli affinché questo avvenga ecco, nei momenti di crisi c'è bisogno di sostegno pubblico perché non si spiega per quale motivo l'Alitalia deve essere salvata e un bene pubblico come l'informazione invece deve essere lasciato al libero mercato Acqua in Molise è meno cara che nel resto d'Italia ma siamo la prima regione per dispersione idrica con una percentuale del 68% rispetto al 36,4% che è la media nazionale l'indagine emerge dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva Ammonta 153 euro la spesa per la bolletta idrica nel 2018 per una famiglia molisana rispetto ai 426 euro della media nazionale Isernia è il capoluogo di provincia meno caro d'Italia con 120 euro annui a Campobasso si è registrato invece un incremento del 12% rispetto al 2017 Se il Molise è la regione meno cara detiene però il primato di regione con la più alta dispersione idrica si arriva al 68% rispetto al 36,4% della media nazionale la fotografia emerge dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva che ha realizzato la 14esima indagine sui costi sostenuti da una famiglia per il servizio idrico integrato nel corso del 2018 eppure con qualche accorgimento si potrebbero risparmiare ulteriori 40 euro l'anno con un uso più consapevole e razionale di acqua si legge nel dossier di cittadinanza attiva che abbiamo quantizzato in 150 metri cubi invece di 192 una famiglia molisana spenderebbe 113 euro anziché 153 con un risparmio medio del 26% circa ad esempio si legge infine in un anno in un anno si possono risparmiare 42 metri cubi di acqua con questi piccoli accorgimenti sostituendo una volta su due la doccia al bagno riparando un rubinetto usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti grande successo a Fornelli per l'assemblea nazionale dei borghi più belli d'Italia oltre al confronto tra gli amministratori di tutta la penisola l'esposizione degli artigiani del territorio tra cui la MaxArt di Isernia sentiamo Pierluigi Boraggine Spettacoli dal vivo musica storia e cultura mostre weekend all'insegna della tradizione e del sapere a Fornelli in occasione dell'assemblea nazionale dei borghi più belli d'Italia per la prima volta in Molise il momento di riflessione e confronto è stato impreziosito da spettacoli dedicati alla cultura e alla tradizione delle nostre terre e all'esposizione delle tipicità del territorio artigianato di grande qualità vera e propria arte perché di questo si tratta tra gli imprenditori che hanno deciso di legare la propria immagine a Fornelli e ai borghi più belli d'Italia c'è la MaxArt di Isernia cerchiamo di fare il nostro meglio con queste sculture in argento da tanti anni e poi sei anni fa mia moglie ha deciso di fare una linea sua di bisiotteria e la presentiamo insieme con la nostra oggettistica quindi si vede che c'è la mano femminile sì sì sicuramente la mano femminile sì poi è mia moglie che si interessa tutte le figlie dei rapporti su internet sulle varie cose grazie alla genialità di Enza Neri la MaxArt realizza pezzi unici lavorati a mano che riscontrano consensi fuori dai confini regionali lavorazioni uniche come ci illustra la titolare dell'azienda queste sono state appena fatte sono state appena create e vabbè cerco sempre anche perché io non faccio le collane una uguale all'altro faccio sempre una cosa diversa dall'altro quindi così come mi vengono le faccio possiamo dire in maniera artigianale è certo queste sono fatte tutte a mano quindi niente spero che che piacciono al pubblico a tutti quanti magari un regalo che l'innamorato fa agli innamorati vabbè anche le donne che se le comprano da solo ormai fanno shopping quindi per fortuna e speriamo che vabbè penso che sia una cosa bella da presentare anche nell'ambito del borgo il complimento più bello che le hanno fatto e niente sono brava e questo è sempre un complimento che fanno sempre perché comunque capiscono che sono cose particolari poi gli oggetti uno li crea come vogliono poi alla fine studenti di Sernini del Fermi Mattei hanno visitato il Parlamento Europeo per capire il funzionamento e per comprendere l'importanza dell'Europa nella vita socio-economica dei popoli Nicola De Santis una delegazione composta da alunni e docenti dell'Istituto Fermi Mattei di Sernia ha visitato il Parlamento Europeo e l'Eurocorps di Strasburgo il viaggio è stato organizzato in occasione dell'incontro in Germania nell'ambito del progetto Erasmus Plus Integration of New Technologies into Classroom il gruppo insieme ad altri studenti provenienti da Germania Estonia Turchia e Grecia è stato accolto dagli europarlamentari delle rispettive nazioni ai partecipanti è stata spiegata l'importanza di far parte dell'Europa Unita nonché l'organizzazione e le funzioni del Parlamento Europeo grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Bruno Caccioppoli per l'opportunità ha sottolineato che è stata data agli studenti di vivere questa esperienza significativa che rafforzerà in loro la consapevolezza di essere cittadini europei l'evento assume un aspetto di particolare rilievo considerate le prossime elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo il Fermi Mattei ha ancora sottolineato il Preside attualmente coinvolto in tre progetti Erasmus che nel corso degli anni hanno contribuito e contribuiranno alla crescita dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze multiculturali altamente formative si terrà domani l'epigrafe commemorativa del rifacimento del busto d'argento di San Nicandro patrono di Venafro e della diocesi di Isernia Venafro l'evento si terrà presso la chiesa Santissima Annunziata di Venafro e sarà curato dal circolo San Nicandro e dalla fondazione Pia Unione Santissima Annunziata alle 17.30 la Santa Messa con la presenza del Vescovo Camillo Cibotti a seguire poi l'inizio della cerimonia appuntamento dunque domani tutta la cittadinanza di Venafro è invitata a partecipare ed ora vediamo le previsioni del tempo queste le previsioni per lunedì 25 marzo un campo di alte pressioni abbraccia la ragione garantendo tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale ecco le temperature Campobasso 6-16 Isernia 4-18 Termoli 10-16 Venafro 3-19 Bene ed ora invece la pagina sportiva oggi turni per il Campobasso di Isernia cominciamo con il vedere com'è andata fuori casa per il lupo la copertina è tutta per Federico Barlafante attaccante del Real Giulianova classe 2000 al 24esimo della ripresa compiuto una magia mettendo a segno la rete del 2-0 il gol della sicurezza contro il Campobasso una rete che esprime tutto il talento di questo ragazzino dotato di straordinaria tecnica e di una velocità che pochi hanno un diamante grezzo su cui hanno messo gli occhi già alcuni club di categoria superiore tre punti pesanti in chiave salvezza per i giallorossi che aumentano il vantaggio rispetto alla zona play-out ora di 5 lunghezze in virtù del pareggio del Sant'Arcangelo a Matelica Alfadini il Giulianova sfoderato un'altra prestazione di carattere giocando anche un buon calcio sui tempi dettati da Napolano 3-5-2 per la truppa giuliese orfana di Di Paolo in attacco per squalifica accanto a Tozzi Borsoi c'è Barlafante con Torelli pronto agli inserimenti per creare superiorità numerica Federico Del Grosso nel giorno del suo 36esimo compleanno è in campo ha stretto i denti ha raccolto l'affetto dei tifosi della curva per gli auguri ricevuti Lupi Molisani in difficoltà sin dalle prime battute dopo una punizione velenosa di Napolano per ben due volte il Giulianova invocherà il calcio di rigore al dodicesimo per un fallo ai danni di Tozzi Borsoi e un minuto esatto dopo per un altro evidente fallo questa volta ai danni di Torelli ma il pessimo di Giovanni di Caserta chiude entrambi gli occhi il capobasso soffre il gioco fisico dei locali che provano a cercare spesso e volentieri Tozzi Borsoi che con i centrali avversari ci va a nozze Pagliarini non è quasi mai chiamato in causa e comunque nelle poche occasioni in cui Tommasini e Di Lauri si affacciano in avanti l'estremo di casa risponde presente il rigore che sblocca la partita viene concesso al trentasettesimo da una rimessa laterale di Fuschi ancora una prestazione maestosa del centrale difensivo giallorosso Tozzi Borsoi mette il pallone in area avversaria Antonelli interviene col braccio sinistro largo penalty ineccepibile che il numero 9 del Real Giulianova trasforma per ben due volte prima del riposo i giallorossi andranno vicino al raddoppio prima con Barlafante poi con Tozzi Borsoi che nella circostanza rimarrà anche infortunato e al quarantacinquesimo l'arbitro conferma di non essere in giornata quando ammonirà Barlafante per simulazione in piena area avversaria dopo aver conquistato palla sul fondo pronto ad involarsi verso la porta le immagini confermano che era rigore nella ripresa Bolzan presenta Fazzini non al meglio della condizione al posto di Tozzi Borsoi che si siede in panchina il capobasso aumenta il ritmo della gara Calzola e Musetti al posto di Antonelli e Cogliati si fa male Marco Antonelli che poi lascerà il campo per Gori Tozzi Borsoi si lamenta con gli avversari che non buttano palla fuori per far soccorrere l'esterno giallorosso l'arbitro è Spelle l'attaccante del Real Giulianova poi la magia di Barlafante per il 2-0 con cui verrà fissato il risultato sfiora la rete Napolano alla mezz'ora mentre Del Grosso non ne ha più al suo posto Rinaldi finale di gara in cui accadrà di tutto Bolzan è costretto a richiamare l'acciaccato Fazzini che mentre lascerà il campo non saluterà il proprio allenatore che lo rimprovererà per la mancanza di rispetto nei suoi confronti e degli altri compagni al 45esimo il Giulianova rischia l'autogol mentre poco dopo grossa ingenuità di Crisci che aveva preso il posto di Fazzini che si vedrà sventolare il cartellino rosso la gara si chiude con il palo colpito dai rossoblu con Musetti sugli sviluppi di un calcio di punizione boccata d'ossigeno per la formazione Giuliese che domenica renderà visita all'Isernia altro scontro diretto vietati i cali di concentrazione è tutto termina questa edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.